San Francesco di Sales. Francesco, il santo della dolcezza, nacque il 21 agosto 1567 nel castello di Sales in Savoia. A 16 anni si convinse di essere nel numero dei predestinati all'inferno e una nube nera avvolse la sua anima. Un giorno prese una decisione. Se non potrò amare Dio nell'eternità, voglio amarlo con tutte le mie forze su questa terra. Dal 1602 fu vescovo di Ginevra, ma per vent'anni dovette risiedere ad Ansì, poiché è sgradito ai protestanti. Morì il 28 dicembre 1622 a Lione e la diffusione dei suoi scritti gli avvalsa il titolo di dottore della Chiesa. Dopo 33 anni dalla morte fu proclamato santo e Papa Pio XI lo ha dichiarato patrono dei giornalisti e degli scrittori.